Lo ritroviamo a distanza di qualche settimana con un nuovo libro, ancora storie, testimonianze, questa volta davvero storie che lasceranno il segno. Do il benvenuto ad un amico, giornalista, scrittore, quando si parla di Vittore De Carli, si parla anche di Luitalsi, Lombarda, vi do il benvenuto davvero con grande affetto. Ciao Vittore, ben trovato. Grazie Paola, ciao e ben ritrovati a tutti e anche i nostri telespettatori che ci stanno ascoltando. Il tuo ultimo libro, intitolato C'è una veste bianca anche per noi, edito dalla libreria editrice vaticana, la prefazione l'hai affidata all'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Non so da dove cominciare, riassumo dicendo che hai scritto, hai raccolto in questo volume 16 storie di persone che sono state visitate dal signor Covid, come dico spesso. Alcune ce l'hanno fatte, quindi raccontano la loro esperienza, la loro testimonianza, altre no, e quindi la loro storia è affidata a coloro che li hanno conosciuti. Da dove vogliamo cominciare Vittore, perché io ho serie difficoltà a parlare di questo libro, proprio per la potenza di ciascuna di queste storie che tu hai raccolto. Io credo che questo libro nasca inizialmente come una testimonianza da quello che è accaduto in Lombardia durante la primavera. Un giorno stavo parlando con alcuni vescovi della conferenza episcopale Lombarda, mi hanno detto perché non scrivi un libro come testimonianza di quello che è accaduto. E da buon cronista ho detto bene, ci mettiamo all'opera, scriviamo. E ad agio ad agio ho conosciuto dalle persone veramente uniche, persone che hanno combattuto il Covid, persone che solo nella fede, nella famiglia e nell'amicizia hanno trovato la forza e il coraggio di continuare, anche quando il lutto è entrato nelle loro case. Sono 16 persone, ma 16 persone che fanno parte della grande famiglia dell'Unitalsi, in modo particolare dell'Unitalsi Lombarda, e quest'anno festeggia i 100 anni, un secolo di presenza. Ecco, un secolo che purtroppo ha una macchia. Abbiamo perso quasi 200 soci. E questo per dire a tutti che si può continuare, si può andare avanti, soprattutto con quella parola che si chiama fede. Appunto specificavi, Vittore, che si tratta di storie di appartenenti all'Unitalsi. Sono tutte storie di persone che vivono in Lombardia, alcuni anche dalla zona rossa, la prima zona rossa, nei primi tempi che sentivamo parlare di colori, appunto la zona rossa di Lodi, uno dei primi focolai. Mi ha colpito quello che ha scritto in una storia, è raccontata anche la malattia e la guarigione del Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napolioni, che qualcuno spesso in questo periodo sta dicendo che questa pandemia ci renderà migliori, finita questa emergenza saremo persone migliori. Non è detto, come ha scritto questa frase, l'ho sottolineata Napolioni, è vero che in queste situazioni difficili matura spontaneamente il bene, ma matura anche il male. Come questa sono tante altre le frasi che costellano questo libro, che come ha detto lo stesso Delpini, è un libro per conversare, per chiacchierare. Noi crediamo di conoscere le persone. Vedi Paola, quando eravamo giovani andavamo alla cabina telefonica, telefonavamo alla persona, agli amici, oggi mandiamo dei messaggini e durante l'incontro col vescovo Napoleone, Antonio, lui stesso ha messo in risalto che questa pandemia non ci aiuterà sempre a ritrovare dei rapporti veramente fraterni. Tante volte costituirà veramente degli ostacoli di comunicazione tra una persona e un'altra. Un esempio, lui aveva combattuto il terremoto e già l'esperienza del terremoto l'aveva devastato, lui giovanissimo è entrato in seminario, ma oggi veramente quando ha vissuto la rianimazione ha capito che nella vita, in questo momento, l'unica arma che ha vicino a lui è la fede e poi oltre alla fede l'aiuto dei medici e degli operatori sanitari. Una cosa che ha detto, ricordati Vittore, oggi tutti dicono i medici sono eroi, gli infermieri sono eroi, ma un domani cosa diranno? E questo è quello che accade oggi. Purtroppo le persone durante il bisogno ti amano, poi si dimenticano di te e sono carino con le parole. Sì, è molto forte quello che dici, però anche edificante. Vittore, come sei venuto, questa è un po' una domanda giornalistica, come sei venuto a conoscenza di queste storie, ti sono state segnalate, conoscevi tu personalmente le persone che hai incontrato e poi immagino che appunto in piena emergenza non avrai avuto modo di andare a casa loro e raccogliere questa testimonianza. Quindi come è avvenuta la parte appunto della conoscenza e poi della stesura del libro? Allora, sono persone che fanno parte della famiglia dell'Unitalsi e ogni giorno arrivavano notizie di persone che stavano male, alcune che non ce la facevano. Gino Fasoli, i giornali ne hanno parlato di Gino Fasoli, ma hanno dimenticato tante cose di lui. Per esempio, che aveva vestito la veste francescana per quattro anni, era stato in missione interessanta. Lì era stato pure rapito e se era fatto rapire, ci sono i documenti, per andare in un campo a curare delle persone malate. Ecco, il sacrificio, il volontario, la persona che è sempre vicino agli altri. E infatti Gino era a casa, era in pensione, gli hanno chiesto, puoi darci una mano a Gino? E lui ha dato la vita. È una forte testimonianza in un territorio della provincia di Brescia che è stato duramente colpito, ma non solo le persone laici, i medi, gli infermieri, ma anche diversi sacerdoti. Per non parlare di Bergamo. Bergamo, sappiamo tutti, è stato il punto colpito veramente da questa pandemia. Abbiamo scelto Don Michelangelo Finazzi. Don Michelangelo è l'assistente dell'Unitalsi Sottosezione di Bergamo. Il Covid gli è entrato in casa e ha vissuto la malattia con il lutto, la perdita della mamma. Lui parco, si infetta con la mamma in canonica, vanno in terapia intensiva, lui ce la fa, la mamma muore. Ecco, ha condiviso con la sua gente diversi morti, oltre di una decina nella sua parrocchia. Lui ha vissuto questo lutto con loro. E veramente oggi ci dice la cosa più bella è quella che ti arriva una parola dolce, una carezza, una persona che ti guarda negli occhi e ti dice io sono vicino a te. Il malato ha bisogno in quei momenti di vedere le persone amiche, ma purtroppo, non sempre, lo sappiamo bene Paola, non è possibile arrivare ai malati di Covid. Certo, Vittore. Perché hai scelto la veste bianca? Cioè, da dove parte il titolo? Come nasce? Perché c'è una veste bianca anche per noi? C'è una veste bianca anche per noi. Non andiamo a guardare, diciamo, la frase che è famosa del linguaggio dell'Apocalisse. La veste bianca per noi, Paola, quando noi veniamo battezzati indossiamo una veste bianca. La prima comunione si indossa una veste bianca. È un cammino che noi facciamo con questa veste bianca. E poi in questo periodo abbiamo iniziato a vedere dove i medici anche loro portano una veste bianca, gli infermieri portano una veste bianca, gli ammalati portano anche loro una veste bianca. Quindi per tutti noi c'è una veste bianca. Sta a noi saperla indossare e soprattutto vedere che questa veste bianca ci ha accompagnato tutta la vita. forse non ci siamo mai accorti ma in questo momento di Covid ce ne dobbiamo accorgere che solo la veste bianca ci può aiutare ad affrontare la malattia. E prendo in prestito ancora una frase dell'Arcivescovo Delpini che dice che sono le testimonianze quelle appunto che hai raccolto in questo libro che chiamano ad una sapienza più alta. Vediamo in questo momento la copertina del tuo libro che consiglio davvero di cuore ai nostri telespettatori magari se non volete leggerlo nell'immediato anche tra qualche mese con calma perché magari come dire sono storie forti quindi ognuno ha i suoi tempi poi per acquisire queste testimonianze e queste informazioni. C'è una veste bianca anche per noi Libreria Editrice Vaticana firmato da Vittorio De Carli che davvero ringrazio di cuore per essere stato con noi per questa bella chiacchierata e ti mandiamo un abbraccio e un pensiero da San Giovanni Rotondo. Un abbraccio anche a te a Paola e a tutti i tuoi collaboratori e alla redazione di Teleradio Padre Pio. Grazie. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.